Oggi prepariamo insieme un dolcino facile facile, veloce veloce, buono buono con pochissimi ingredienti, i triangoli di pasta sfoglia ripieni. Prendi un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, taglia la metà nel senso della lunghezza, quindi ricava 6 rettangoli. In ogni metà rettangolo pratica delle incisioni, naturalmente senza arrivare ai bordi. A questo punto richiudi in due i rettangoli, con la parte incisa verso il basso. Farcisci con la crema pasticcera. Chiudi il primo lato portando la pasta sfoglia verso il centro e sigillando bene i bordi. Procedi anche col secondo lato, sigilla bene anche la parte centrale. Capovolgi Ed ecco il triangolo pronto. Rivediamolo insieme. Richiudi il primo angolo verso il centro, sigilla. Richiudi il secondo, sigilla. E sigilla la parte centrale. Capovolgi Quindi procedi con la restante pasta sfoglia. Vediamo adesso quelli con la nutella. Stesso procedimento, ripieno e diverso. Aggiungi la nutella e distribuiscila su tutta la superficie. Chiudi il primo lato e sigilla. Chiudi il secondo lato, sempre verso il centro, e sigilla. Ancora Trasferisci i triangoli realizzati su una teglia ricoperta di carta forno e aggiungi zucchero semolato in superficie. Cuoci in forno caldo a 190 gradi statico o 200 gradi ventilato per 15 minuti. Ed ecco i nostri triangoli pronti.